Sono l'astronato Luca Parmitano, sono in partenza per la Stazione Spaziale Internazionale, sarò lì da luglio a febbraio. Per cui a settembre, quando uscirà questo film ad Astra, che parla di situazione spaziale, sicuramente saremmo tutti contenti di poterlo vedere a bordo, per cui vi ringrazio di questa opportunità. Fra l'altro, per Aspera, ad Astra è proprio il motto qui dei cosmonauti lussi, per cui direi che è veramente di buon auspicio. Grazie ancora.